Ho trovato tre formazioni veramente pazzesche da 100.000 crediti l'una. Molti di voi mi hanno scritto dicendomi che hanno avuto difficoltà durante queste Champions Finals, sia perché magari avevate una squadra economicamente non abbastanza forte, sia perché magari mi mancavano le informazioni che vi abbiamo dato io e Principe nel video di venerdì, recuperatelo. Allora mi son chiesto, ci sono delle squadre da 100.000 crediti alla portata di tutti che vanno bene per affrontare la Champions Finals? Ne ho trovate ben tre. Lasciate 500 like per più video di questo genere, iscrivetevi al canale e scrivetemi nei commenti quale squadra farete. Partiamo dalla prima. Importa Vicario perché la chiave nelle squadre economiche è un portiere alto e in questo caso abbiamo un portiere alto che innanzitutto ha comunque 87 di riflessi, 84 di posizionamento e 84 di tuffo che è niente poco di meno che è un ottimo portiere. Stile di gioco, c'ha tra l'altro la parata di piede che è assolutamente interessante e abbiamo anche un portiere fuori dai pali, plus che male non fa. Il nostro terzino destro è niente poco di meno che Diogo Dalota. È un 4-4 che si presenta con una velocità assolutamente degna, in grado di adattarsi anche a terzino sinistro e tra l'altro porta anche un buon tecnico e una scivolata che è associata a delle statistiche che lo rendono un difensore comunque degno. Niente di assurdo, non è automatico, non è un giocatore che difende a solo ma con la CPU che c'è al momento su FC riuscite comunque a difendere assolutamente bene. Molto forte tra l'altro di testa perché è alto ma rimane comunque agile nei movimenti quando porta palla su. Guardiol che è un difensore centrale che nasce dal terzino sinistro assolutamente sottovalutato perché è difensivamente assolutamente valido perché comunque ha una buona lettura difensiva, un buon contrasto di piedi, ha il blocco plus assolutamente a caso, ha l'affronta e per di più c'è il passaggio lungo e il passaggio calibrato che ci torna molto utile per poter lanciare dalla difesa, poi fisicamente valido e forte di testa. Come ruoli c'è la registra difensiva o plus ma chiaramente lo possiamo usare anche come difensore. Con a te costa tanto per essere un 83 ma perché in game rende più di quello che sembra e in più lo possiamo appare con l'evolution. Fisicamente è fenomenale difensivamente, è un giocatore molto più automatico in game di quello che potremmo mai leggere dalle statistiche. Ha anche lui il blocca ma soprattutto ha anche Mastino e Aereo che ci tornerà molt utile sui calci d'angoli e comunque la velocità la raggiunge assolutamente, giocatelo con ombra. La Rolfo è un signor terzino tant'è che l'ho utilizzato anche per un periodo nella mia squadra personale perché è un terzino interessantissimo, partiamo dal presupposto che come stile di gioco c'ha l'affronta plus e che il passo veloce la rende molto più veloce di quello che sembra. Poi aggiungiamo che è molto brava posizionarsi in fase offensiva che come ruolo c'ha il tornante offensivo plus plus e assolutamente a caso come ruolo alternativo c'ha la S per farvi capire che è abituata ad attaccare. A livello di dribbling è un controllo, è un dribbling devastante poi lo sapete l'agilità sulle calciatrici è diversa come valutazione anche se a 77 è molto più agile di quello che leggiamo ha un 90 di passaggio corto e 91 di forza fisica. Io ancora lo devo sbloccare ma lui deve essere il vostro esterno destro l'ho provato su altri profili ed è devastante, è velocissimo agilità e equilibrio che lo rende un giocatore molto mobile ai movimenti seppur mantenendo una forza fisica che lo rende difficile a spostare e tra l'altro c'ha rapido plus ma anche il razzetto oltre che c'ha il passaggio teso e ha ala plus plus o attaccante interno plus ed è di fatto un esterno veramente da paura secondo me va sbloccato perché è uno che ancora ha un minimo e si riesce a sprint boostare. E al riguardo fatemi sapere se volete uno short dove vi spiego come completare rapidamente la stagione Bruno Fernandes lo sapete l'ho messo praticamente in qualunque squadra è un centrocampista senza nessuna logica perché quest'anno con tiro passaggio dribbling è assolutamente forte e nonostante non corra tanto riesce comunque a essere abbastanza mobile e quel che basta a livello di velocità con ombra raggiunge statisticamente una situazione molto più equilibrata ma ciò che conta è che ha passaggio lungo plus, passaggio calibrato e passaggio incisivo basta non ci interessa altro poi la più grande centrocampista di questo gioco la Patrick Gugiarro difensivamente è pazzesca ha un passaggio senza logica il passaggio lungo plus e il passaggio incisivo la rendono ancora più forte un'altra che lancia sinistra a destra senza mai riuscire a essere fermata poi abbiamo il buon Sandrino Tonali è una carta molto equilibrata, molto sottovalutata e fa bene in tutte le fasi corre, bravo difensivamente, bravo fisicamente ha un buon controllo del pallone, sa passare la Salma Paragliuelo è la classica calciatrice per correre dritti in attesa di avere i crediti niente più, niente meno e poi abbiamo la Pajor che è un attaccante assolutamente di valore corre un botto, finalizza un botto, ha buona agilità era più forte chiaramente prima della pace perché ha un solo stile di gioco che è rapido plus c'ha attaccante avanzata plus di fatto a lei ci serve che ogni tanto si sprint boosti e ogni tanto riesca a scambiare bene o a girarsi per far inserire le ali però il concetto è che debba finalizzare tutto la squadra si presenta in questo modo con un 4-5-1 con il max intesa vi basta mettere un alleatore dei Premier League chiaramente non posso farvi vedere le tattiche ma ricordatevi, scusatemi, mettere tonali centralmente in modo che sta arretrato ma generalmente le tattiche lo sapete ho fatto un video dedicato dove vi spiego i moduli principali come sfruttarli in game guardatelo e fate come vi ho spiegato in quel video lì la seconda squadra monta su un 4-4-2 ed è adeguata sia per chi ha 100.000 crediti ma anche per chi ne ha 60 il portiere è Alex Remiro anche qui è un portiere a 1,92m che monta comunque su dei riflessi un piazzamento, un tuffo di assoluto rispetto e con anche come stile di gioco rimessa lunga e parata di piedi con anche lui portiere fuori dai pali plus il terzio destro è super chiacchierato Marcos Llorente, la figata di Llorente che può giocare 342 ruoli quindi chiaramente allora abbiate un buon game plan e avete intenzione di cambiare moduli lui può adattarsi a tantissime situazioni può diventare un terzio come lo sto utilizzando ma può anche diventare un esterno destro, un centrocampista centrale o un'ala destra perché lui è sia molto veloce, bravo difensivamente fisicamente molto più valido di quello che possiamo leggere nelle statistiche e chiaramente corre di più grazie a Rapido e Passo Veloce Vivian è il difensore sulla quale sono un pochino più dubbioso lo sto provando in questa fase ma magari consigliate anche voi nei commenti chi mi interessa il suo posto ma è la situazione difensore migliore che ho trovato tra i difensori economici che rispecchiassero determinate caratteristiche che cercano di un difensore mentre d'altra parte abbiamo un signore difensore con Alaba dove difensivamente è validissimo palla al piede uno dei più validi, reattivo secondo me fuori ruolo potrebbe pure fare il centrocampista perché per le statistiche che ha è tecnicamente veramente brava e difensivamente assolutamente affidabile chiaramente entrambi i difensori con ombra Olga Carmonna lei è un signor terzino super veloce, ottimo dribbling, buona difesa fisicamente non è granché però grazie comunque al Rapido e all'intercetto e come tornante offensivo plus plus diventa un terzino solidissimo la Rodman un esterno destro di assoluto valore 4-4 fisicamente forte lo sottolineo perché si sente tanto perché comunque è molto veloce l'agilità c'è ma comunque con questa forza fisica ogni tanto qualche passato lo perde quindi usatelo con intelligenza brava a finalizzare e ha 692 stili di gioco tra passo veloce e rapido tiro ad esterno tiro a giro illusionista sa fare l'attaccante interno plus plus davvero tanta roba poi c'è la Dune che come centrocampista alta un metro e cinquantacinque mi assicuro che sembra più alta in game perché è un colosso in campo perché è fortissimo a me piace tantissimo corre molta e brava palla al piede sa impostare sa passare sa difendere fisicamente è più forte di quello che dovrebbe essere sguscia cioè non lo so sarà il fatto che gioca a Gotham o il fatto che è rapido e passo veloce ma come mezzala plus o come box to box è una carta davvero devastante la Patrick Gugiaro ormai la conosciamo Aish Bade o come cazzo se legge questa corre un botto è fisicamente forte stacca un botto di testa nonostante sia bassa finalizza tutto se non potete farvi il pot o non avete abbastanza crediti prendete la versione base che comunque ci sta diciamo che come attaccante interno ala se la cava lo Shoala è l'attaccante definitiva lei è pazzesca come l'anno scorso 90 di finalizzazione corre un botto un 4-4 agile dribbling a sia la rapida che il razzetto al tiro d'esterno rapace plus carta davvero devastante e poi Correa per avere un attaccante un pochino più fisico perché in game comunque il suo boite lo rende un po' più fisico generalmente comunque è abbastanza veloce va giocato con cacciatore l'agilità si sente ma il corpo lo rallenta un pochino e poi di testa un minimo se la cava così è come dovete metterla chiaramente per impostazione la Patrick difenderà di più rispetto alla Doom che servirà un po' più per la fase offensiva i moduli chiaramente li potete andare a recuperare nel video dedicato e ora passiamo alla terza e ultima squadra l'ultima squadra parte di nuovo con un portiere che è letteralmente stato inserito perché è alto perché ha qualcosa di decente nelle statistiche è un portiere classico plus ma finisce lì poi abbiamo Malo Gusto che anche qui parliamo di un terzino veloce basta va bene qualunque terzino francese insomma per forza deve essere lui Koulibaly invece grande difensore a me piace tantissimo perché è super veloce ha una forza fisica importante è forte di testa è forte difensivamente è anche abbastanza automatico tra il blocco e il gioco d'anticipo ed è fortissimo fisicamente mi piace molto come stopper plus ma ha giocato con ombra i Bagnez invece parliamo di un difensore centrale non altissimo ma che è associato ad alcune statistiche difensive non malvagie oltre che a casissimo ci ha scivolato a plus intercetto e blocco è molto molto veloce non è magari fortissimo fisicamente lui come registro difensivo plus con ancora secondo me se la cava abbastanza bene la carcia Ui a me piace tantissimo ha 5 di skill non so perché 4 di piede debole può fare anche l'esterno e sinistro qualora vogliate cambiare modulo magari passare a moduli strani a me piace avere delle alternative è veloce è molto agile sa skillare sa passare la palla difensivamente ha un buon contrasto ha buona intercettazione oltre che ci affronta blocco e gioca d'anticipo ha in più anche passo veloce tecnico è inesauribile diventando sempre più veloce sempre più tecnica sempre più precisa in quello che fa è molto resistente va chiaramente giocata come tornante offensivo plus poi abbiamo D.A.B. che nonostante il downgrade il downfall del prezzo rimane comunque molto molto forte ha tantissimi ruoli alternativi la sua forza la sua forza è chiaramente la velocità associata ad un'agilità importante un dribbling di livello che insieme a rapido e passo veloce plus come attaccante interno plus se la cava veramente molto bene poi chiaramente finalizzazione fa quello che può ma è una carta super esplosiva poi al centrocampo abbiamo la Gay Yoro che è un centrocampista molto interessante che in game si comporta veramente bene grazie ai suoi passaggi corti e passaggi lunghi a passaggio lungo passaggio incisivo come stili di gioco oltre che c'ha inesauribile plus che non la fa stancare mai gioca ad anticipo che difensivamente insieme a 90 di contrasto di piedi la rende incredibilmente automatica in fase difensiva lei è un centrocampista centrale veramente di livello mi piace giocarla come box to box va bene anche come regista ma insomma valutate voi dove posizionarla Kanté deve chiaramente fare la mediana difensivamente come al solito è senza alcuna logica poi è chiaramente intercetto plus inesauribile come sempre perché Kanté non si stanca mai corre un bot qua la dovete giocare chiaramente con ombra per farlo correre di più e associandolo alla Magiri che di fianco fa l'alto ruolo anche lei con 5 di massabilità una squadra di skiller super agile super controllo super dribbling veloce buona difesa potete giocarla con ancora tranquillamente per aumentare un po' tutto con ombra poi abbiamo Neymar Junior 5-5 una carta che ho usato tantissimo all'inizio è un giocatore pazzesco velocissimo dribbling cioè velocissimo no è veloce c'è un dribbling pazzesco è molto agile con le skill è uno dei pochi che riesce a rendere grazie all'illusionista plus chiaramente c'è il tecnico il tiro di trivela il passaggio incisivo è un giocatore molto bilanciato anche grazie a un passaggio di livello finalizzazione perdiamo qualcosa a sto giro come S perde tutti i plus i plus plus però è in campo un giocatore veramente forte e poi abbiamo la Diany un attaccante che a me l'hanno scorsa ha fatto impazzire perché è una finalizzatrice senza senso ha un posizionamento offensivo davvero tanto intelligente velocissima ha in più una forza fisica da capogiro controllo palla dribbling agilità davvero incredibile è una calciatrice che in campo si posiziona bene segna sempre in tutti i modi sa tenere fisicamente comunque si muove bene è agile è veloce così è come poi li andate a posizionare in game e come per le squadre precedenti chiaramente recuperate le tattiche dove ne ho parlato per vedere come farle così ogni volta non vi devo farvi fare lo spiegone ma lo avete una tanto quando vi serve fatemi sapere cosa ne pensate di queste due squadre nei prossimi video usciranno davvero tanti tutorial quindi ci vediamo nei prossimi giorni che ci saranno dei video speciali finalmente è uscita la patch o sta per uscire quindi niente ci vediamo in prossimo video